Allora, prima volevo ringraziare la professoressa signora Mazzarrini, sempre con quella pelle lunga, mi pare di vedere un po' con tassone, quella pelle, è lì fuori, si è preparata, e poi dove è? Dove è? Il signor Presidente, una parola del Presidente, un saluto, tutta madonna esiliata su incoglia di Cucecchio, a insegnare lontana, ho seguito la sua scia di profumo, per guardare su sopra, madonna, un saluto alle barristi! E si nutrono con quei pallini molli, tutti incastricciati, ogni volta ci trova un capello dentro, un casino, è capitato a tutti, non capito, vero? Eccolo là, custode, dove è? Dove è? Eccolo, lì la sala, dove è? Un applauso che è sempre qui dalla scuola! Signora Lucia è la macchiniera, un applauso per la macchiniera! Scur Koh! Casa Marton, quando si torna a fare l'amore su le casarcate? Ma hai? offense, farlo? Invece! Cuore un incubo, plainso, invece, invece dai! Dove è andata ai lazzi? Prova pelle rosse, tornecio, cammanato! E non lavora mai, fa sempre lavora mai, sto a chiamare! Adesso ci stag hai? E guarda! Eh, nobana! cominciamo due o tre invitazioni come l'anno scorso per divertirsi si scherza il professore non sarà mi raccomando se no vado nei reclami intensivi nell'NVC e lì scarieranno tutti i pensieri il primo vediamo sarà indominato questa è una pesce anche l'anno scorso allora adesso mi sono proprio arrabbiato perché io l'ho un esercizio da fare e nessuno riesce a farlo io sto qui alla cattedra e sto sempre a insegnare e questi non ti pescono niente li entra di qua e li esce di qua e come si fa adesso basta sono stufa vedete quello che dovete fare chi l'è? Anna Lucia dove è Anna Lucia? dove è? non c'è? dove è? due come dovrà? due due mila Anna Lucia un applauso a Anna Lucia un'altra professoressa forse mi può non lo so vediamo chi è allora la psicologia bisogna prima c'è la gesta no aspetta prima è Freud Freud i sogni l'interpretazione dei sogni no me lo dici dopo poi è la quella no dopo chi l'è? la paulesu la paulesu che sta usando ma non metta paulesu non c'è? non c'è la paulesu? non c'è non c'è madonna vabbè ora quest'altro professore che c'è stato per poco non so se lo conoscete ma così sì vediamo faceva così eh? sì sì allora quando dice la psicologia si dice e poi la psicologia deve e lei i turi vedi poi poi ce lo sanno perché c'è stato per poco un applauso ai turi anche se ho venuto poi questo professore vediamo chi è se non li conoscete vediamo